Sindaco, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, possiamo dire. Sicuramente delle tasse camplese, ma non solo, anche della provincia di Teramo, la Sagra della Porchetta, 52esima edizione, 18-23 agosto. Come ogni anno ci aspettiamo tantissime persone per degustare la nostra porchetta, ma anche l'occasione per vedere le bellezze del centro storico di Campli. Ci saranno eventi collaterali che lederanno le varie serate. Per noi la Sagra della Porchetta rappresenta un appuntamento centrale dell'estate farnesiana. Quest'anno davvero tantissimi eventi, però la chiusura è quella della Sagra della Porchetta, dove veramente ci aspettiamo tantissime persone che hanno sicuramente accompagnato l'estate farnese anche nei mesi di giugno e luglio, ma che comunque ormai hanno appuntamento fisso con la nostra Sagra della Porchetta. Come ogni anno verrà anche scelta la porchetta migliore? Assolutamente sì, ci sarà la giuria che decreterà il vincitore della Sagra della Porchetta e anche quest'anno ci saranno tantissime porchette a partecipare. Ci auguriamo davvero che la porchetta che vincerà sia la porchetta che poi durante anche l'anno verrà venduta maggiormente e sponsorizzerà anche la nostra città che fa appunto di questo evento sicuramente uno degli eventi centrali della propria estate. Grazie.